A volte può essere difficile andare d'accordo con il tuo esatto opposto, ma può anche essere super divertente. Candy di solito ha un sonno molto profondo, ma non oggi. È troppo difficile trattenere tutta la sua energia, soprattutto quando è quasi il suo compleanno. Come fa a rimanere calma e tranquilla? Musica forte e balli divertenti la aiuteranno ad esprimere la sua felicità. Ma non tutti saranno felici di tutta questa gioia, soprattutto Spicy. Tutto questo ballare non faceva parte del suo programma di oggi. Che se ne importa di che giorno è, se non riesce a dormire abbastanza. Ma Candy non riesce a controllare le sue emozioni. Tutti devono sapere quanto è felice. Diffondere la gioia è la sua vocazione, anche se fa impazzire Spicy. La bellezza è potere e Spicy lo sa fin troppo bene. Il suo look deve essere sexy e la polvere di Pepe la aiuterà in questo. E il lucida labbra? Beh, niente fa brillare le labbra più del tabasco. Candy ha un approccio diverso nel truccarsi. Secondo Candy, il miglior metodo per lavarsi i denti è la gomma. E non solo per lavarsi i denti. Ha così tanto zucchero che può usarla per truccarsi. Ovviamente le ragazze mangiano cibi completamente diversi per colazione. Non è una sorpresa che a Candy piacciano molto le colazioni dolci. Entrambe le ragazze mangiano cereali con i loro condimenti. Spicy sta usando la salsa tirayaki e Candy sta per aggiungere... La Pepsi! Ma aspetta, c'è di più! Salsa piccante contro orsetti gommosi e la ciliegina sulla torta e il pepe macinato per Spicy. E lo zucchero per Candy. Solo queste ragazze potevano mangiare i cereali così. La cucina corrisponde al cuoco. Candy ha deciso di fare un mocktail per sua sorella. Prende un'arancia e la taglia a metà. Poi spreme il succo in un bicchiere. Aggiunge acqua tonica. L'ingrediente successivo? La granatina. Naturalmente Candy non può dimenticare il ghiaccio e lo zucchero. Un sacco di zucchero! Mescola bene e decora con un peperone. Così Spicy non sospetterà di nulla. La bevanda è pronta. Candy può fare uno scherzo a sua sorella. Spicy sarà così sorpresa quando assaggerà la bevanda che Candy ha preparato per lei. Sì, c'è troppo zucchero! Spicy è furiosa. Spicy ama tutto ciò che è piccante, inclusi i ragazzi. Andare ad un appuntamento con un demone. Classico di Spicy. Sta per succedere qualcosa che la farà ribollire. Una proposta? Spicy è così nervosa che sta per scoppiare. Rilassati, sono solo orecchini. Per farli hai bisogno di argilla polimerica rossa. Fai una forma di peperone. Fai un gambo di argilla verde. Inserisci un anellino. E cuoci gli orecchini. Attacca le basi degli orecchini. E copri il peperoncino con smalto trasparente. Spicy è così felice di questi orecchini. È un ottimo accessorio per una ragazza sexy come lei. Guardare un film è un'ottima idea. E le patatine sono il miglior spuntino per un film giù le mani, demone. Se la strada per il suo cuore passa per il suo stomaco, allora la chiave per arrivarci saranno delle patatine giganti. Mmm, è delizioso! È il compleanno di Candy. Torta per colazione. Oggi è più accettabile. Ora Spicy deve avere un po' di torta. Candy sa quanto sua sorella odia il cibo dolce. Così le ha fatto una torta speciale. L'acco sparsa di peperoncino macinato. Mmm, così va meglio. È caldo e dolce. Candy deve essere bellissima per il suo compleanno, quindi deve scegliere un vestito davvero fantastico. Mmm, mmm. Wow, assomiglia proprio a sua sorella maggiore. No, non è così. Ma questo ha un look migliore per Candy. Manca ancora qualcosa. Abbiamo bisogno di un cerchietto. Avvolgi un bastoncino nel cotone. Fissa la forma con la colla a caldo. Metti la colla a caldo sul cotone e attaccalo alla base del cerchietto. Aggiungi i brillantini. Il cerchietto è pronto! Questo cerchietto la fa sembrare molto più dolce. Uuuuh! Anche Spicy ha deciso di vestirsi per il compleanno di Candy. Vuole fare qualcosa con i suoi capelli per accentuare il suo look. Lo stilista ha un'idea fantastica. Trasformare i suoi capelli in sushi. Il tocco finale è un ferma capelli wasabi. Calda come la stessa Spicy. Vuoi fare tu stesso questo fermaglio per capelli? Metti dell'argilla leggera in una sacca da pasticcere con una punta decorativa. Crea un fiore sulla carta forno. E mettilo su una spilla per capelli. Questa acconciatura merita un servizio fotografico. Spicy è felice del risultato. La festa sta per iniziare. Cos'è stato? Il campanello? Potrebbero essere gli ospiti? Controlliamo. Wow! Guardali! Sembra stiano andando a una festa di Halloween. Ed ecco Candy con i suoi ospiti. Non lasceranno in pace Spicy. Dovrà unirci a questa festa a tutti i costi. È la festa di sua sorella, dopo tutto. Quindi deve divertirsi. Spicy è triste. Non è abituata a feste infantili come questa. La musica è troppo smielata. Ma il suo ragazzo è venuto a salvarla. Questo damone renderà piccante questa mousse al cioccolato. Anche Spicy apprezza una musica come questa. Così va meglio. E ora rompiamo la pignatta. Candy sarà sorpresa. Colpisci quelle caramelle. Per farne uno uguale, prendi un foglio di carta. Piegalo così. Ricava un cerchio dalla carta. Incolla i bordi. E incollaci la carta piegata. Versa i coriandoli, glitter e pepe rosso. Prendi un cerchio più grande del primo. Applica la colla e metti il cerchio sopra. Piega un pezzo rettangolare di carta ondulata e arrotola la base. Incollalo sul cerchio. Copri la parte superiore del cupcake con pezzi come questo. La pignatta è pronta. Ora non ti resta che colpirla. La pignatta non ha avuto alcuna possibilità contro Candy. Ma non c'erano caramelle dentro. Solo peperoncini. Questo potrebbe spezzare il suo piccolo cuore. Meno male che è solo uno scherzo di Spicy. E lei sa quando fermarsi. Per fortuna Candy non porta rancore. Ed è già tornata a ballare. Niente può rovinare il suo umore oggi. È tempo di fare i regali. Vediamo cosa hanno portato gli ospiti. Un estintore? Se non è fatto di cioccolato, Candy non ha idea di cosa farci. Cos'altro hai portato? Questo è strano. Sembra una maschera da cavallo. Però è piuttosto divertente. Ma c'è qualcos'altro. Un pacchetto di gomme giganti. Ne vuoi una? Dipingi di rosa un contenitore per torte. Attaccaci un logo. Ora abbiamo bisogno di un tappetino di silicone e del fondente. Stendilo. Taglia un rettangolo e prendi un tubo. Avvolgi la striscia. Mettilo al centro del coperchio e coprilo con la seconda metà. Incolla i due pezzi con il nastro. Questo regalo è perfetto per Candy. È fantastico! Chissà quanto zucchero c'è dentro. Che bella festa di compleanno! Ti è piaciuta la storia di Spicy e Candy? Quale ragazza preferisci? Scrivilo qui sotto nei commenti. E non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti per nuovi video di Troom Troom Trick!